Signore e signori buonasera, vi diamo il benvenuto alla Rassegna Bandamica che è giunta ormai la terza edizione nel corso degli anni. Però lascio la parola al Presidente Romeo Santanderuero che è Presidente della prima provinciale Alessandria Asti che vi saprà sicuramente spiegare meglio di cosa si tratta. Buonasera a tutti, come sai trovi un gelato in mano, io preferisco l'altro però mi tocca. Questa è una rassegna che diciamo al Consiglio a Unlima si è un po' inventato molto semplicemente per dare un pizzico di visibilità in più alle nostre bande e comunque questa è una rassegna fatta in amicizia. Perché Bandamica? Bandamica proprio per questo, perché è uno scambio diciamo alla pari. Quest'anno devo ringraziare innanzitutto il signor Sindaco di Occiniano e il Presidente della banda di Occiniano, Valeria, per averci ospitali. E chiaramente la parlo con chi dopo fanno la cosa più interessante per noi, ci danno a mangiare e nemmeno a bere. Niente, vi auguro un buon ascolto e ci vediamo tra un po'. Grazie. 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 Grazie.